Ciao a tutti ragazzi, qui il vostro Archivi Parla e sono qui un pochino per rispondere alla domanda che praticamente tutti quanti mi fanno spesso sotto i video o anche in streaming. La prossima app a zombie che non si sa ancora ufficialmente quale sia o quando uscirà potrebbe essere un remake di King of the Heart Totten. Per rispondere un pochino a questa domanda ovviamente in maniera non ufficiale e con soltanto informazioni molto vaghe che siano leak, rumor o tanto altro, dobbiamo partire 5 mesi fa quando ci fu il primissimo leak enorme per Black Ops Cold War. A riguardo questo è il post vecchissimo di Nanikos con un leak veramente infinito e fa veramente strano ed è molto interessante che circa il 90% di tutte queste informazioni sono alla fine informazioni vere che abbiamo visto su Cold War, su Dimashine e su Firebase Z e anche di recente con tanti altri contenuti. A riguardo proprio qua si parlava di tante mappe presenti al lancio poi ridistribuite per cui Dimashine, ZM Silver, Firebase Z, ZM Pink, dopodiché ZM Platinum che sarebbe una mappa a Berlino o anche soltanto ZM Berlino a un certo punto mi pare si chiamasse, e poi un'altra mappa che dovrebbe essere The Giant, il remake di The Reads. Per quanto riguarda quest'altra cosa mettiamola da parte perché potrebbero essere come sempre pezzi di codice rimasti da Black Ops 3 e Black Ops 4, tante cose sono molto possibili. Per quanto riguarda invece questa ZM Platinum, questa versione di Berlino dovrebbe essere un remake di Kioner Totten o più avanti si vocifera anche di Asiachino che Verruckt e tutte quante assieme, con ovviamente una zona un pochino più ampliata essendo un remake, queste due zone sono soltanto dei pezzi minori della mappa come per dire Nakt per Dimashine e tutto il resto è un pochino più ampliato e differenziato. Ricordiamo anche che di recente proprio con i teaser di Outbreak c'era anche questo teaser del lampadario con la radio sopra e tutta quella che è l'antenna esterna che sembrava tantissimo rimandarci a Kioner Totten, però l'abbiamo messo un pochino da parte perché alla fine erano tutti quanti dei teaser per Epidemia Outbreak, quindi sembrava un pochino più secondario. Di recente invece tante di quelle che sono le informazioni della Season 2, gli audio log e tutto il resto, come Focal Point e tante altre informazioni recuperabili già da prima su FireBaseZ, dove possiamo vedere diverse discussioni per quanto riguarda Berlino e comunque tante di quelle che sono le location già discusse in passato per le fratture dell'eteroscuro che sono molto importanti, possono essere contenute, possono essere più grandi o meno grandi, la più importante è di recente ai Monti Urali che è chiaramente Epidemia Outbreak e questo invece è un pochino minore che se ricordo bene è una frattura veramente minuscola però presente appunto a Berlino. Possiamo anche ricordarci per dire dal filmato iniziale con Weaver che guarda tutti quanti i computer, per le location importanti per zombie per cui la Polonia per quanto riguarda Dimashine, il Vietnam per FireBaseZ e poi si vedeva qualcosa ai Monti Urali che è stato appunto Epidemia e in seguito qualcosa nel centro di Berlino che potrebbe essere praticamente questa King of the Totten, per altri leak si parlava anche di un certo nome Mauer der Totten o una roba del genere. Quello che posso dire è che basterebbe anche soltanto per dire scavare nella campagna che molto spesso diversi assets e zone della campagna vengono riutilizzate, basta guardare FireBaseZ che è nel Vietnam che ripropone alcuni piccoli pezzi della campagna perché è chiaro che possono riutilizzare alcune sezioni di missioni della campagna e tante altre piccole cose del genere per poter essere appunto riutilizzate su zombie che è una cosa che si fa dai tempi di World at War e continueranno a fare per sempre. Per quanto riguarda Berlino è proprio una bellissima missione della campagna a Berlino ambientata di notte mentre piove è proprio una delle primissime missioni della campagna. La cosa secondo me è molto molto interessante perché ci serve bisogno secondo me che non c'è da un po' di tempo una app a zombie completamente notturna con la pioggia magari i zombie che vengono al buio e un grandissimo utilizzo di quella che è la torcia di Black Ops Cold War vista un pochino su di machine e ancora meno purtroppo su FireBaseZ che è sicuramente un'ottima meccanica e appunto rendere un'altra mappa molto notturna, molto molto horror tutta quanta scura di notte sarebbe molto interessante e riproporre appunto zombie come Kino, Verrucht, però tutte quante ampliate con una mappa molto molto più grande e tante sezioni potrebbe sicuramente funzionare. Come sempre torniamo alla discussione del remake, del remastered, Kino di Black Ops 1 rivista anche su Black Ops 3, stessa cosa per quanto riguarda Verrucht, da World at War, Black Ops 1, Black Ops 3, veramente queste mappe vengono riutilizzate tante tante volte, però la questione come sempre è se possono creare qualcosa di più simile a di machine che neanche ti ricordi è Neck The Run Totten ampliata potrebbe sicuramente funzionare. Come sempre la questione è, piuttosto che il remake fatto in un certo modo o un altro preferirei sempre mappe completamente nuove o originali, come è stato per dire FireBaseZ che per me è stato fantastico, qualcosa di completamente originale mai visto prima, quello di cui zombie come sempre ha bisogno. È sempre interessante ritornare in queste vecchie location come può essere una Kino del Totten per la nostalgia o la questione di tornare in Germania, ma hanno ambientato non so quante mappe in Germania tra Verrucht, Kino, Der Ries e tanto altro, per cui la location ci sta, anche perché appunto siamo nella campagna della guerra fredda, il periodo circa è quello, quindi la location ci sta sicuramente, ma per quanto riguarda tutto il resto possiamo soltanto stare qui ad aspettare e vedere. Questa mappa dovrebbe essere teoricamente il DLC 2, tra fila di virgolette, che vi ricordo il DLC di Black Ops Cold War, sono tutti come sempre gratuiti, nessuno a pagamento, però la concentrazione adesso è per FireBaseZ che è comunque relativamente appena uscita circa un mese fa e ovviamente Outbreak Epidemia che quella è completamente nuova. Gli giornamenti che abbiamo visto anche riguardo dall'intervista di Treyarch che vi lascio magari in descrizione o nella scheda a fine video, parliamo di diversi contenuti per quanto riguarda questa Season 2.5 Reloaded che arriverà probabilmente tra qualche settimana e anche la Season 3. Per quanto riguarda una possibile data per il lancio di questa nuova mappa zombie, quindi la prossima mappa zombie che dovrebbe essere la seconda aggiuntiva appunto dopo FireBaseZ, io penserei verso o la fine di questa Season o addirittura il lancio della Season 3, quindi circa un altro mesetto. Avrebbe senso per una distribuzione di mappe zombie ogni circa 2-2 mesi e mezzo, massimo 3 mesi per essere un pochino più distribuiti, in mezzo anche ad altri contenuti che sono stati Epidemia, Outbreak, i contenuti per zombie magari adesso anche l'arrivo dell'armeria, una specie di easter egg e tutto il resto, in modo come sempre ad avere un flusso di contenuti un pochino più costante piuttosto che fare dei drop di contenuti enormi, poi lasciarci due o tre mesi assolutamente senza niente. La discussione a riguardo è come sempre molto accesa sui social, ma è come sempre secondo me molto molto presto per discussioni a riguardo, e finché non abbiamo informazioni ufficiali, anche se sono leak magari da persone molto molto affidabili, come di recente stato per dire Tom Anderson, è comunque un leak, è comunque un rumor, nessuna informazione ufficiale su cui possiamo basarci per le discussioni vere e proprie, se non piuttosto semplice speculazione. Io a riguardo ragazzi voglio sapere come sempre le vostre opinioni, se vorreste rivedere una mappa a Berlino, che si ha Kinder Totten, Verhucht, entrambe un pochino più ampliate e modificate, o come sempre vorreste la questione del mappe completamente nuove e originali, come è stato Firebase Z, che secondo me è la soluzione giusta, però se qualcosa è leggermente più modificato o fatto come si deve, come è stato per D-Machine al lancio, potrebbe anche funzionare. La questione è, quello che fa Threadge con i contenuti che ha è quello che può creare, e un pochino con tutto il tempo che gli diamo, per il supporto di Black Ops Cold War. Il video quindi si concordo qui, spero che vi sia piaciuto e vi sia stato utile, come sempre i due post originali di Reddit, quindi il vecchissimo leak di 5 mesi fa di Nanikos, e anche quella che è la versione audio log di Focal Point, sono qui sotto in descrizione, ci sono anche i link per i miei social, tra cui Instagram, Twitch e anche il canale Discord. Ci siamo come sempre a un prossimo video. Un abbraccio. Alla.